Ho fatto un paio di video che al tempo si potevano considerare molto virali che mi hanno dato un po' di attenzione a livello di community italiana tantissimi youtuber italiani da Roberto Bonetti a Ciccio Gamer mi hanno aiutato concretamente perché abbiamo fatto collaborazioni e robe e mi hanno aiutato cioè se io sono qui è anche perché ho fatto tante collaborazioni con altri colleghi e sono stati sempre tutti super carini con me Ma Human Safari perché? Voglio sapere perché Human Safari? Da dove viene questo nome? Banalmente avevo la camera completamente ricoperta di foto, illustrazioni, cose, poster e dovevo cercare un nome per un gioco online che era Guild Wars perché non avevo i soldi per l'abbonamento di World of Warcraft e avevo letto sulla parete Human Safari Ah così proprio? Sì sì, non c'è nessuna correlazione con quello che faccio anche se fitta bene Sì ma è andata bene, è andata bene, è stata una bella botta di fortuna Senti Riccardo, ci racconti un po' come è iniziato tutto, ti hai iniziato nel 2012 se non sbaglio Una cosa simile, sì, nel 2011-2012 ho iniziato ad appassionarmi ai video Va bene, se per me non ho le cuffie Sì sì, ok, ok Monitoriamo noi Top, perché ho iniziato ad appassionarmi ai video dopo essere stato semplicemente uno che faceva foto, eccetera Avevo la reflex, poi ho scoperto che quella reflex comunque poteva fare dei bei video quindi ho iniziato ad appassionarmi facendo dei video bruttissimi Poi ho scoperto, mettendoli su YouTube, perché al tempo era più comodo caricarli su YouTube se volevi farli vedere ai tuoi amici perché altrimenti cosa facevi, portavi la chiavetta e quindi caricavo su YouTube Ho scoperto che c'era una community dietro gente che ha visto i miei video, ho partecipato a degli hangout di canali YouTube che al tempo erano microscopici considerati i numeri che ci sono in giro adesso però comunque avevano già un fandom dietro e mi sono preso bene quando tutte queste persone hanno iniziato a gasarmi a dirmi ma sai che dovessi continuare ma in realtà non dovevo continuare, cioè facevano schifo i video che facevano sono stati solo carini con me però quella gentilezza mi ha comunque dato la voglia di impegnarmi di più ho fatto un paio di video che al tempo si potevano considerare molto virali che mi hanno dato un po' di attenzione a livello di community italiana tantissimi YouTuber italiani da Roberto Bonetti a Ciccio Gamer mi hanno aiutato concretamente perché abbiamo fatto collaborazioni e robe e mi hanno aiutato cioè se io sono qui è anche perché ho fatto tante collaborazioni con altri colleghi e sono stati sempre tutti super carini con me e una cosa tira l'altra Anna certo ha detto guarda mi do un anno di tempo se riesco a farlo diventare il mio lavoro perché nel mentre c'era questa possibilità prima no a un certo punto YouTube è diventato una roba che poteva diventare lavoro ho detto mi do un anno di tempo altrimenti continuo a fare il videomaker perché nel mentre avevo iniziato a fare il videomaker qua a Milano e si può dire che siamo a Milano? si può dire che lo sfondo si sposta per le puntate siamo un podcast mobile possiamo anche dire che lo nutriamo lo sfondo è vivo sta crescendo il nostro piccolino scalcia ogni tanto ora per il suo compleanno metteremo una doga in più ci sta ci sta ah sono proprio doghe è vero bello i primi video che sono andati virali che video erano? un video orribile di me in giro per il mondo che battevo la mano sulla telecamera ogni volta che toglievo la mano mi ritrovavo in un posto diverso però non è che i posti fossero così tanto diversità di loro le inquadrature non erano particolari è andato virale perché fondamentalmente non c'era molto di meglio esatto nel 2012 quel prodotto lì era comunque un prodotto innovativo nuovo sì sì adesso comunque è pieno di gente che viaggia su YouTube al tempo no perché comunque non era una roba cioè magari c'erano altri format che andavano per la maggiore tipo il gaming o le challenge o cose simili forse le challenge sono arrivate un pochino dopo e vabbè il timing il timing sì 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 mi è andata bene ragazzi sono stato fortunato perché vabbè non è mai solo fortuna no però se avessi iniziato qualche anno dopo secondo me avrei avuto molte più difficoltà e di fronte a queste molte difficoltà potrei aver mollato prima lì iniziato